L'ultimo è una nostra produzione, abbiamo preso un musicista calabrese, uno di quelli che stimo più di tutti, Alberto La Neve, il sessofonista, e lo facciamo incontrare con una danzatrice calabrese che si chiama Teresa Serra Cassano, lo facciamo incontrare con le note del suo ultimo disco che si chiama Night Windows, tra l'altro e anche qua c'è un gioco di miscelare diverse arti perché Alberto ha scritto questo album ispirato da alcuni quadri di Edward Hopper. e come vedi abbiamo ogni sera un tipo di incontro diverso. Ciao! 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 Ciao!